È un vecchio tema, Davide, nel senso che da noi in Italia non c'è questa grande tradizione di giornalismo investigativo, giornalismo d'inchiesta, proprio perché, l'hai già detto tu, serve tempo, serve molto tempo per studiare, servono tante risorse anche tecniche, poi abbiamo quel tema lì, l'Italia si differenzia sempre rispetto ad altri paesi che magari hanno i pool investigativi dentro le grandi redazioni del servizio pubblico, da noi non c'è mai stato e poi abbiamo la querela facile in Italia, in Italia querelare non costa nulla, la lite temeraria è all'ordine del giorno e forse non è un caso che l'inchiesta sia sempre più affidata a freelance che lavorano fuori dalle grandi redazioni.